Ciao ragazzi, diamo il nome a questo composto. Prima cosa da fare è individuare la catena di atomi di carbonio più lunga che contiene, in questo caso, il doppio legame, perché di questa molecola è il gruppo funzionale. Quindi la catena più lunga potrebbe essere 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eccola qui, questa è la catena più lunga contenente il doppio legame. Quindi 6 atomi di carbonio, es, abbiamo detto doppio legame esene, perché è un alchene. Poi dobbiamo numerare questa catena in modo tale da dare al doppio legame il numero più basso possibile. È facilissimo, si vede a colpo d'occhio. Basta iniziare a numerare dalla parte sinistra. Quindi questo è l'atomo di carbonio 1, qui avremo 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi il doppio legame lo avremo sull'atomo di carbonio 2. Poi abbiamo sull'atomo 1 un cloro, sull'atomo 4 un bromo, e poi in 3 abbiamo il metile. Ora mettiamo in ordine tutto per dare il nome al nostro composto. Dunque partiamo sempre in ordine alfabetico, quindi abbiamo 4 bromo, poi 1 cloro, 3 mitile, 2 esene.